Grazie, grazie di avermi dato la parola e voglio fare intanto i miei complimenti al Carabinatiati perché sono, oltre al riconoscimento che già porta sul caso sul petto, ha ottenuto questo ottimo riconoscimento e i riconoscimenti che vengono dalle massime carriere dello Stato su una maravita sentenza e rappresentano ciò che è il sentimento della nazione, il sentimento della progettività e quindi mi preme sottolineare e comunicare al signor Gatti che questo riconoscimento è il segno che lo Stato è vicino a chi lo ha servito.